Andrà in onda questa sera su .tv la storia di Santa Lucia Filippini raccontata nel musical che l'associazione AIMA porterà in scena sul palco del Cinemateatro Coviello di Bitonto. Lo spettacolo intitolato Lucia Filippini, la maestra santa, sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20 sia sul canale 660 del Digitale Terrestre che in streaming su www.tvonline.it. L'occasione è stata fornita da un appuntamento importante perché proprio quest'anno ricorrono i cento anni della fondazione dell'Istituto Sacro Cuore di Bitonto. Fu nel 1916 infatti che il vescovo Pasquale Berardi realizzò il suo grande desiderio, fondare a Bitonto una scuola cattolica che formasse individui e cittadini secondo i principi del Vangelo. Nacque così l'Istituto Sacro Cuore delle Maestre Pie Filippini, un'istituzione edificata sull'esperienza carismatica dei suoi due fondatori, Santa Lucia Filippini e il Cardinale Marcantonio Barbarigo. Con sette suore guidate dalla madre superiore a suora annunziata a Manzetti, cominciò quella che molti hanno definito una splendida avventura. L'appuntamento con l'infaticabile figura di Lucia Filippini è dunque per questa sera in diretta a partire dalle 20 su Punto TV e dal Teatro Coviello per il musico sulla Maestra Santa.